Si va avanti con Raid 5, trofeo internazionale, Naked 900, ancora Naked, basta! Ed è Paul, Leclerc, partirà in Paul e poi consumerà troppo le gomme e vincerà qualcun altro, come sempre. Allora, tre giri, bello. Tre giri, perché questa pista è lunga, due minuti e quattordici al giro, ho fatto la Paul, in due quattordici. Allora, tre giri, bello. Allora, tre giri, bello. Allora, tre giri. Troppo presto, cazzaro! Cazzo, sette decimi di penalità. Allora, tre giri, bello. Allora, tre giri, bello. Grazie. 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 E vince anche questa! pista lunghissima blue wave 3 minuti al giro quanti giri ci sono? 3 spero, sì 3 3, 6, 9 testa lunghi testa lunghi testa lunghi Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.